La telemedicina diventa una realtà proiettandosi come il futuro prossimo della sanità pugliese. Qui siamo in un centro per anziani di Putignano dove sono stati consegnati i primi mini laboratori sanitari portatili, dispositivi ultramoderni, grandi come un pacchetto di sigarette, capaci di seguire un check-up di un paziente da cima a fondo in soli 10 minuti. Il kit costa circa 2.500 euro ed è stato importato da Ares Puglia, l'agenzia sanitaria regionale, nell'ambito di un progetto di ricerca europeo da 10 milioni di euro che ha coinvolto una quindicina fra paesi membri e multinazionali. La fabbricazione è spagnola, israeliana, tedesca e americana su progetto italiano realizzato in parte all'Università del Salento. Inizialmente le apparecchiature furono destinate al telecontrollo dei pazienti Covid, ma ora saranno distribuite a tappeto in centri e ambulatori della medicina territoriale. Il mini laboratorio consentirà la televisita direttamente a casa o nel centro di assistenza, piani terapeutici ad hoc, monitoraggio H24 e visite specialistiche a distanza senza trasferire il malato.